I prodigi del pensiero positivo di Amadeus Waldben 84 lettura guarire con l'amore per aiutare gli altri bisogna anzitutto amarli desiderare ardentemente di giovare loro non vi è altra formula magica più efficace di questa se desideri di aiutarli e liberarsi a liberarsi di una cattiva abitudine di smettere di fumare di bere di essere vittima della droga eccetera devi far penetrare nella loro mente i danni che queste abitudini arreccano e benefici che possono avere dalla liberazione di quelle schiavitù ciò va fatto proiettando nella loro mente le immagini di coloro che sono stati vittime di quelle abitudini dei mali che ne sono derivati fino a quello di rendere una esistenza piena di malattie e di dolori farai questo figurandoti le persone come ti fossero di fronte parlando loro allo stesso modo che faresti se tu fossi a conversare con esse senza reticenze e con tinte forti le immagini che proietti siano come reali tali da impressionare vivamente le persone che vuoi correggere ma accuratamente scelte vive le più atte a colpire la mente e tali da scuotterle veramente per rimuoverle ciò va fatto sempre con amore ma con molta energia quando si ha il proposito di aiutare qualcuno a liberarsi da vizi e da cattive abitudini si deve riflettere che è necessario proporgli altre soluzioni benefiche per lui in modo che non rimanga privo di qualcosa che prima lo sosteneva infatti per molti i vizi e le cattive abitudini sono come un sostegno nella loro vita se vengono tolti improvvisamente rimarrebbero come privi di appoggio l'agricoltà l'agricoltore taglia in rami bassi per far spuntare quegli alti e per dare alla pianta maggiore forza e appoggio è bene anzi agire contemporaneamente mentre col pensiero si prospettano drammaticamente e per immagini gli effetti negativi e i danni che arrecano i vizi e le cattive abitudini eppure è necessario prospettare i grandi benefici arrecati dall'acquisto di qualità positive e i vantaggi grandi che arrecano alla vita rinnovata le immagini mentali proiettate siano sempre rinnovate e sempre più drammatizzate ogni volta che fai la proiezione per appoggiare le proiezioni va sempre visualizzata l'immagine della persona puoi aiutare la visualizzazione con una fotografia o con un oggetto che le appartenga poiché il suo fluido è un buon canale che aiuta la trasmissione fa questo mantenendolo una ferma concentrazione sull'immagine mentale della persona che tu stai aiutando con i tuoi pensieri e su quello che tu desideri sia realizzato con il suo bene per il suo bene ricorda sempre che l'attenzione visualizza le cose e la concentrazione unita alla visualizzazione opera prudigi nella realizzazione di quanto si vuole ottenere